Cari cittadini, siamo prossimi alle festività natalizie e ci apprestiamo a vivere un nuovo anno nella speranza che la lotta al virus sia presto vinta. Il contagio si è ora molto ridimensionato rispetto al picco di contagi del mese scorso. Oggi, 22 dicembre, registriamo 77 cittadini di Carano Pertusella ancora positivi, mentre i guarinti sono quasi mille. La contagiosità del virus si è dimostrata molto alta, soprattutto nella seconda fase. Il numero dei test eseguiti da tampone molecolare ci dicono che 6 con cittadini su 100 del nostro comune hanno contratto il virus. A queste persone si aggiungono tutte le altre persone contagiate che hanno superato la malattia senza aver fatto tampone, perché è sintomatici oppure perché ha impossibilitati ad eseguire il tampone. È una situazione questa che si è verificata molto spesso, soprattutto nella prima fase del lockdown. I cittadini deceduti nel nostro comune sono 38 e tutti i decessi si sono verificati nelle due fasi acute della pandemia, quasi dimostrare che la pressione sulla rete ospedaliera ha fatto la differenza per molti che non ce l'hanno fatta a superare la malattia. Voglio esprimere la mia vicinanza e quella di tutta l'amministrazione comunale ai familiari dei nostri concittadini deceduti ed esprimere nel contempo l'encomio a quanti in questo periodo sono rimasti al loro posto per assicurare i servizi essenziali ai cittadini. Ci accingiamo a vivere un Natale austero, pieno di limitazioni. È di menere discorso l'ultimo decreto legge che impone ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus. Le nuove disposizioni intervengono nel periodo natalizio, impedendo la zona rossa nelle date indicate in prossimità delle feste, impedendo gli spostamenti senza giustificato motivo al di fuori del proprio comune di residenza. È un momento triste, una ferita al cuore e all'anima di molte persone che si vedono privata dalla vicinanza dei propri cari nel giorno più aspettato e sentito dell'anno. È una decisione sofferta che crea sconforto ma dettata dalla necessità di scongiurare una ripresa pandemica che molti osservatori danno per scontato dopo le festività natalizie. Questa pandemia ci ha insegnato quanto è interconnessa alla vita di tutti noi e che l'azione sconsiderata di alcuni danneggia tutta la comunità, che ci si salva insieme e non individualmente, che la solidarietà, l'aiuto reciproco, il rispetto della dignità delle persone è il presupposto di una società matura e sostenibile. Il Natale è una festa cristiana che richiama tutti nell'amore verso il prossimo e l'amore per il prossimo non è un sentimento che può essere guastato da un virus. Facciamo in modo di ritrovare il vero significato del Natale nelle nostre azioni, al di là del periodo temporale delle feste. Questa pandemia ci ha privato della serenità, degli incontri, degli ebracci e a molti cittadini anche del lavoro, ma non ci può privare della nostra umanità, della nostra creatività, delle nostre capacità, dei nostri talenti, della nostra energia. Buon Natale quindi a tutti i concittadini, con l'augurio che il nuovo anno sia portatore di novità positive. Dall'Associazione Culturale Eugenio Piere ci arriva un bel dono per questo Natale. Si tratta di una serie di video postati sulla pagina di YouTube di Carono Pertusella, sugli itinerari cittadini alla scoperta del nostro territorio. È un bel dono fatto alla comunità che vi consiglio di visionare. Ricordo inoltre che in comune all'Ufficio Cultura sono ancora disponibili i libri su Carono Pertusella, arte, storia e memoria, curati dall'Associazione Peri, in occasione del 150esimo anniversario dell'Unificazione tra Carono Milanese e Cassina Pertusella. Per chi fosse interessato è questo un bel regalo per quanti volessero approfondire la storia dei nostri luoghi e delle nostre genti. E anche questo è il modo per prendere coscienza di sé e amare il proprio paese. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo.